Questo gruppo ci presenterà un brano, il brano Chusen dei Maneskin, che è un gruppo che fuoriuscito diciamo da X Factor, dal Talent del 2017. Ce lo presenta la cantante e solista Alissa Connova di 16 anni di Sanremo, che suona alla Emi già da tre anni. Ai cori abbiamo Barbara Trapani di Valle Crosia, alla chitarra Marta Poppa di 16 anni di Col di Rodi, alla batteria Demis Ciliberti. Sono accompagnati da Tony Mercurio al basso e De Leonora, braiato alla tastiera. Grazie. 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 And I wasn't seen, then I'm scared of my ass Yeah, and I know that it's non-scroché But this is my moment, this is my moment And I don't care what people think Cause I'm born for that, yeah Because my voice is the voice of a beast I wanna take it off, man, so take it off This is not music, this is love, this is what all you for So let me introduce myself, as I can take it a moment It's too many super people, and they have control I got a plan in my mind, and a wallet, go Got a pistol in my head, pop up a shot And I don't wanna hear, so please shut up and now Hey, 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 follow me, follow me now So hey, 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 follow me, follow me now Hey, 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 follow me, follow me now It's na-na-na-na-na-na-na-na Follow me, follow me now Oh yeah, yeah Yeah, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Follow me now Follow me now Follow me, follow na-na-na-na-na-na-na Hey, 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 follow me, follow me now Hey, 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 follow me, follow me now Follow me, follow me now Follow me, follow me now